pct facile il primo podcast per avvocati tecnologici ciao stai ascoltando pct facile il primo podcast pensato per avvocati tecnologici io sono francesco posati autore e curatore e ti do il benvenuto alla nuova puntata se sei un nuovo ascoltatore ti ringrazio per il tuo interesse in questa puntata speciale ripercorremo insieme i primi 15 podcast sarà occasione per te che ti sei da poco abbonato al canale telegram itunes o spreaker o sul sito avvocato tecnologico punti di scoprire insieme questo racconto l'evoluzione in bit degli avvocati di fronte ai grandi cambiamenti del processo telematico se invece tu sei un utente storico che hai già ascoltato i precedenti podcast sai già che dalla puntata 16 scene di psycho al tribunale di velleitri e dei successivi aggiornamenti sul canale telegram pct facile che domenica scorsa non è andato in onda il podcast perché impegnato a realizzare il video di presentazione della giornata della regalità nel prossimo 21 maggio 2016 al tribunale di velleitri vedrai in anteprima comunque il video è stata una bellissima esperienza anche perché coinvolto nella regia del video e perché ho messo a frutto le mie competenze multimediali che avevo già sviluppato in altri esperimenti quale la tweet disco e tweet vide basta cercare in rete un ringraziamento speciale lo voglio infatti rivolgere a francesco spinucci di brand new video a marco pennacchini voiceover dei video nonché voce della sigla del nostro podcast e a marta zaglioli che ha curato con me la produzione un ringraziamento speciale lo rivolgo anche all'ordine degli avvocati di velleitri che ha prodotto il progetto al tribunale e alla procura di velleitri che hanno patrocinato insieme alla nm alla situazione nazionale magistrati per la fiducia e la disponibilità accordata la realizzazione del video è stata una delle prime occasioni in cui l'ufficio giudiziario veliterno si è aperto in modo alternativo alle telecamere per raccontarsi e io ho avuto l'onore ti ricordo sempre che mi puoi condividere i tuoi feedback commenti e suggerimenti nelle modalità che ci ricorderà Marco nella sigla di chiusura puoi diventare anche produttore esecutivo delle prossime puntate collegandoti alla pagina paypal.me slash fposati lascia un'offerta libera il tuo nominativo sarà citato in coda iniziamo dagli occhi della sala avvocati di frascati ho avuto anche una grande opportunità nel vivere l'inizio dell'evoluzione in bit degli avvocati quando ho preso servizio nel 2006 presso la sezione di staccato di frascati dominanti nella professione erano la carta, i registri, le rubriche, i faldoni, il fax i più avanzati iniziavano a usare le mail di pec e firma digitale non se ne parlava nonostante l'entrata in vigore del CAD nel 2005 e l'inizio della sperimentazione del processo telematico proprio nel 2006 oggi l'avvocato è tecnologico con il processo telematico come ti ho descritto nella puntata numero 3 l'aggettivo tecnologico richiama infatti il mondo delle tecnologie informatiche, del web e del cloud il sostantivo avvocato è legato al mondo analogico delle carte bollate, dei codici diritto, dei timbri e delle lunghe attese in cancelleria è cambiato il mondo dell'avvocatura oggi infatti nella puntata numero 5, cloud e territorio ho citato il filosofo Gallimberti e della sua nuova etica della tecnica e l'avvocato Caravita di Toritto sull'internet, il cloud e la dematerializzazione dei rapporti sociali ma gli avvocati hanno accettato questo cambiamento? nella puntata 13, siamo giuristi informatici ascolterai che la risposta tipica dell'avvocato analogico di fronte all'utilizzo anche del più semplice servizio tecnologico quale la PEC o la firma digitale è sempre stato refrattato all'aprirsi al nuovo egli ha studiato giurisprudenza, non informatica e che di questa amenità tecnologica ne farebbe a meno perché nel suo cuore spera sempre in un ritorno alla carta convinto che sia il sistema migliore, più sicuro e più stabile ma Andrea Lisi nella puntata 14, ritorna alla carta, ci ricorda che tante volte noi costruiamo, stampiamo documenti continuiamo a costruire documenti online magari li costruiamo attraverso il PC perché ormai nessuno sigla i propri documenti scrivendoli a penna tutti li costruiamo magari sul PC però ci ostiniamo a stamparli molto spesso è inutile stampare invece bisogna costruire dei binari fatti di bit che siano dei veri mattoni per costruire poi quelle fondamenta solidi di cui l'Italia ha bisogno l'esempio di Margaret Hamilton l'informatica che portò l'uomo sulla luna nel 1969 ci mostra che l'uso delle tecnologie digitali non è informatica è solo vita quotidiana nel relazionarsi con il mondo che ormai interagisce con le tecnologie informatiche sotto questa ottica non ha senso più la dicotomia giuristi e informatici nel podcast numero 12 ho parlato del rapporto di informatica giovani il PCT è un'opportunità soprattutto anche per gli avvocati giovani i quali possono aprirsi al nuovi mercati liberati dalle catene della territorialità dove l'avvocato storico ha maggiore clientela per il controllo sul territorio esercitato nel tempo il digitale supera questi confini tuttavia Damiano Mereta ospite della puntata e giovane avvocato ha giustamente evidenziato che vaderà il mito dell'equazione avvocato giovane e avvocato telematico purtroppo non è così tanti giovani colleghi miei coetanei ma anche più giovani non hanno un approccio al processo telemadio come credo debba essere stai ascoltando PCT Facile il primo podcast per avvocati tecnologici dobbiamo investire nella diffusione di una cultura digitale di una consapevolezza digitale come Marco Camisani Calsolei ci ricorda che ha in pezzo sito sempre la puntata numero 13 oggi il mondo è cambiato molte delle logiche e delle funzioni della vita passano attraverso un linguaggio nuovo che spesso dietro ha proprio le logiche della programmazione mi sono calato anche nei panni di indovino con le provisioni per l'anno 2016 nella puntata numero 2 e nella puntata 11 ho risposto alla domanda quale futuro ci sarà per gli avvocati tecnologici di fronte agli scenari tracciati dal World Economic Forum secondo cui il 65% dei bambini che oggi entrano a scuola da adulto ricoprerà ruoli in lavori che tuttora non esistono grazie all'information technology cambiano gli scenari il concetto di lavoro e di professione va completamente reinventato dobbiamo adottare nuove logiche di lavoro dobbiamo essere professionisti digitali se vogliamo evolverci proprio di professionisti digitali ho parlato nella puntata numero 6 qual è il rapporto tra professionista e digitale e nella puntata numero 15 i professionisti digitali ai tempi dei social network Gianmarco Boccanera ospite della puntata numero 6 ci ricorda che il rapporto con le nuove tecnologie è diventato sicuramente imprescindibile le nuove tecnologie cambieranno il diritto come lo intendiamo noi oggi come ci ha infatti rivelato nella puntata 9 l'avvocato Gallus e la dottoressa Fernanda Faini la prima presidente donna del circo dei giuristi telematici ormai non si può neanche più distinguere da tempo tra reale, virtuale o digitale arriveremo a un punto per cui non dovremo nemmeno più chiamarci giuristi telematici, avvocati di digitale perché l'avvocato sarà necessariamente digitale anche Francesco Minanzi nella puntata numero 10 mandovai se la prevesi non ce l'hai ribadisce questo concetto di avvocato tecnologico lo studio legale è ormai quasi interamente digitale posto che dall'avvento del processo di civile telematico soprattutto ha catapultato più di prima l'avvocato analogico che era abituato all'utilizzo di strumenti cartacei nel sistema dell'informatica che è complessivamente più articolato Sabrina Lucantonio ospite della puntata numero 8 il processo penale telematico e la digital forensics il nuovo frontione del diritto transnazionale infatti ci ricorda che un avvocato attento, un avvocato attrezzato sia culturalmente che professionalmente fa la differenza nelle puntate 4, 7 e 14 ho parlato delle carenze strutturali del processo civile telematico e delle fragilità del sistema tuttavia nonostante i limiti e le sue criticità denunciati questa deve essere la sala da intraprendere la modernizzazione della professione forense l'evoluzione in bit degli avvocati italiani appunto se vuoi ascoltare in dettaglio tutte le puntate che ti ho menzionato puoi collegarti sul sito avvocatotecnologico.it oppure abbonate al podcast su iTunes se sei utente Apple oppure sulla piattaforma SoundCloud o su Spreaker.com aspetto sempre un tuo commento per crescere insieme e farmi sapere la tua ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il canale Telegram PCT Facile e il podcast con i loro feedback e commenti i produttori esecutivi e le singole puntate che si sono collegati alla pagina paypal.me e hanno lasciato un'offerta libera ogni registrazione richiede un grandissimo lavoro di preparazione, di tempo, di investimento anche economico è vero oggi le tecnologie rendono alla portata di tutti la realizzazione di format che prima erano impensabili da soli e che richiedevano ingenti investimenti economici proibitivi oggi nel proprio studio mi posso connettere con il mondo realizzare un podcast o un video e condividere con le mie rete sociale non dobbiamo temere il digitale ma dobbiamo acquisire consapevolezza che stiamo vivendo un nuovo umanesimo digitale come evidenza Fabio Brivio nel suo saggio l'umanista informatico dobbiamo cambiare approccio e andare all'essenza della tecnologia cominciando a studiare la sintassi dei nuovi linguaggi informatici delle macchine le future lingue moderne che per quanto sofisticate non raggiungono la complessità della mente umana fatto questo la differenza la fa solo l'esperienza umana concludo questa puntata speciale nel ricordarti che viviamo il futuro digitale ciao segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it su Tumblr e su Telegram contatta l'autore Francesco Posati per idee, suggerimenti, richieste su about.me slash fposati o scrivi a me chiocciola francescoposati.it sostieni il podcast tramite paypal.me slash fposati francescoposati